Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Quindi noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti e colpa tua, nei vicoli, nei mercati, fra gli stand dei ventitori, diciamo, di frutta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.